Calciopoli fa ancora discutere, 17 anni dopo emergono nuove intercettazioni. Le avete sentite? La maxiorganizzazione di corruzione degli arbitri che portò alla retrocessione della Juventus nel 2006 è stata trattata questa sera nuovamente durante uno speciale sul report, in onda su Rai3. La trasmissione ha messo alla luce alcuni degli atti più nascosti dell'inchiesta Calciopoli, testimonianze di intercettazioni ancora inedite, tra le tante voci ascoltate. Anche quella dell'ex presidente FIGC Carraro, protagonista di una delle frasi più eclatanti che sta facendo scalpore. Era il novembre del 2004, la Juventus era più 15 sull'Inter e in occasione di un derby d'Italia, l'ex presidente della FIGC disse al designatore degli arbitri di allora, Paolo Bergamo, di non favorire la Juventus. A Rodomonti, l'arbitro designato per il match, Bergamo poi disse, se hai un dubbio, pensa a chi sta messo peggio.